ciao a tutti amici di esperienza mobile siamo in compagnia di samsung galaxy s5 di iphone 5s per un confronto confronto molto dedicato e molto atteso diciamo che sono due sistemi imperativi diversi in confronto si può fare solo in parte perché non hanno molte cose in comune a livello software e anche hardware quindi ci saranno le solite critiche se di parte se non di parte eccetera eccetera ovviamente ogni uno sui gusti e cercherò di essere in parziale e comunque siete liberi di dire la vostra nei commenti in maniera educata quello di importante fotocamera 16 megapixel con flash led e sensore per i battiti cardiaci quindi il rilevamento dei battiti cardiaci logo samsung ha l'altro parte del sistema messo in una posizione un po scomoda perché se si appoggia su una superficie morbida a tutti c'è il suono fotocamera da 8 megapixel doppio flash led secondo microfono logo mea dell'apple iphone e le casse invece quale abbiamo qua sotto sicuramente una posizione più intelligente benissimo l'iPhone in alluminio costruito sicuramente meglio indubbiamente è più soggetto a qualche graffietto sull'alluminio anche se un alluminio trattato bene è antigraffio mentre sul Samsung abbiamo un po' di carbonato indubbiamente più resistente se così si può dire si può anche cambiare la cover in caso di graffie rotture però si sente in mano che insomma la sensazione è di materiali un po' più economici anche se sull'S5 abbiamo questa finitura in che sembra ricorda quella un po' di un cerotto come dicono tutti però devo dire che non è così male al tratto effettivamente e anche la vista pian pianino mi sto abituando e non è così male come può sembrare in foto o dal video connici qua in plastica simi alluminio qua abbiamo gli infrarossi per fare da telecomando funzionano molto bene e qua sotto lo sportellino che copre il connettore USB perché il telefono è impermeabile diciamo che resiste all'acqua e alla polvere questa è anche la causa delle connici che sono un po' più spesse anche rispetto al vecchio modello S4 li giriamo entrambi hanno il tasto fisico qua in basso con lettori di impronte digitali sensori qua in alto con videocamera anteriore e capsula auricolare sul Samsung abbiamo il flash LED e il LED notifica cosa che noi abbiamo sull'iPhone di accendiamo allora mentre accendo diciamo le caratteristiche tecniche abbiamo un display 5.1 pollici full hd super AMOLED 430 pixel per pollice sul Samsung contro un 4 pollici con una risoluzione leggermente inferiore all'HD 326 pixel per pollice IPS quindi due tecnologie diverse l'accensione leggermente più veloce sul Samsung allora cos'altro dire il processore è un quad core 2.5 gigahertz snapdragon 801 quindi per ora il migliore sul mercato con quad core mentre un dual core da 1.3 gigahertz e 64 bit sull'iPhone facciamo tecnologia nuova intanto mettiamo a password perché quando si accende bisogna per forza mettiamo a password poi si può usare l'impronta digitale tecnologia nuova non una cosa sfruttata al massimo secondo me però che sicuramente apre nuove frontiere almeno per i processori mobile la RAM è di 2 gigabyte su S5 contro 1 gigabyte sul 5S la memoria abbiamo detto 16 gigabyte espandibili sul Samsung contro 16 32 64 gigabyte non espandibili batteria removibile sul Samsung nonostante sia impermeabile da 2800 mAh contro 1570 mAh circa non removibile quindi batteria sicuramente a vantaggio di Samsung come anche la memoria espandibile entrambi sono LTE e abbiamo un NFC sul Samsung che non abbiamo sul iPhone bene allora vediamo come funzionano gli sblocchi con il touch appoggio il dito sul tasto e si sblocca si può anche fare un movimento unico quindi premo e lascio il dito sopra e il telefono si sblocca mentre sul Samsung la cosa un po' più macchinosa effettivamente bisogna far trascinare il dito esattamente come si è fatto la prima volta e se si cambia un po' angolazione non funziona sempre invece su iPhone funziona in percentuale più volte questo quindi da dire che funziona leggermente meglio funziona meglio su iPhone però anche su Samsung se si trascina il dito in modo ottimale non ci sono problemi funziona al 100% delle volte qua ho la sim qua non ce l'ho quindi ovviamente la batteria scenderà anche un più velocemente sul Samsung entrambi sono luminosità massima come vedete approfitto per far vedere qua i toggo rapidi per entrambi se così possiamo chiamarli su iPhone quindi collegamenti per modalità aereo, bluetooth, modalità notte, rotazione, wifi musica, airdrop, torcia, qualcosa che dice fotocamera qua in alto i toggo rapidi avete di classici di Android modificati un po' dalla TouchWiz tutti i toggo rapidi qua con le gesture e tutti i vari sensori per quanto riguarda l'interfaccia in alto abbiamo attentina per le notifiche per l'iPhone e anche per Android ovviamente l'iPhone è arrivato un po' dopo e può ancora migliorare secondo me cosa dire? la fluidità è molto molto buona su entrambi sull'S5 ha migliorato apparecchio rispetto al vecchio S4 non abbiamo più lag di nessun genere anche utilizzandolo molto intensamente tutta la giornata possibilità di aumentare ridurre le schermate ovviamente cartelle, tutto quello che volete classico come su tutti gli Android su iPhone anche qua iOS 7 diciamo lo conosciamo già bene ha anche fatto un focus in passato impostazioni anche qua modificate sulla TouchWiz classico ovviamente su iOS bene quindi l'interfaccia è molto diversa qua abbiamo Android e KitKat l'ultima versione con l'app drawer e tutte le varie funzioni che offre Android e che offre iOS sicuramente è un sistema più aperto quello di Android però non voglio entrare nel discorso perché poi ogni volta vengono fuori critiche se di parte se non di parte abbiamo Sfinder e anche qua abbiamo abbiamo la ricerca ecco qua rapida su in tutto l'iPhone funzioni quindi molto simile tenendo premuto qua abbiamo Siri e invece doppio tap sul Samsung abbiamo S-Voice tenendo doppio tap sull'iPhone abbiamo il multitasking così si scrive l'applicazione mentre sul Samsung abbiamo il tasto dedicato perfetto adesso direi partire subito con la fotocamera ricordo 8 megapixel con 16 megapixel so che i megapixel non sono tutti ma è tutto ma devo dire che in questo caso la fotocamera di S5 è una delle migliori e ovviamente molto molto buona anche fra gli Android ovviamente un sacco di impostazioni in più un sacco di impostazioni in più ma questo lo sappiamo iPhone ha poche impostazioni video in 120 frame al secondo full HD moviola panoramica e qualche effetto diciamo nuovo messo con iOS 7 HDR e possibilità di cambiare la fotocamera basta mentre qua abbiamo tutte le possibilità ovviamente di ridimensionare la foto e decidere se fare un video in HD in full HD o addirittura in 4K abbiamo effetti abbiamo HDR anche qui abbiamo messa a fuoco selettiva che è la novità del Samsung quindi possibilità di no del Samsung di ultimi Android diciamo che hanno questa messa a fuoco selettiva quindi possibilità di mettere a fuoco in primo piano e sfocare molto in secondo piano o viceversa uscendo abbiamo modalità quindi bellezza a volto, scatto e scegli che fa tanti frame nella stessa foto molto carino come questa prima che vedete qui panoramica, foto tour virtuale che unisce tante foto insomma doppia fotocamera un sacco di funzioni molto interessanti quindi più completa sul Samsung per quanto riguarda i risultati vediamo insieme zoomiamo, ho fatto le stesse foto ovviamente allora, cominciamo da questa indubbiamente la risoluzione è più alta sull'S5 devo dire che anche zoomando molto si nota che rimane un po' più definita anche perché dopo un po' l'iPhone ti blocca ma vedete che anche qua proprio l'occhio qua comunque si vedono un po' di più i peri qua invece è tutto un po' più offuscato per quanto riguarda i colori diciamo subito che sono due tecnologie diverse superamore tende a spararli un po' di più mentre il display dell'iPhone è più naturale come colori è da dire che però i colori del Samsung si possono settare e modificare nelle impostazioni fluidità in galleria assolutamente paragonabile vedete non sono assolutamente larghe da nessuna delle due parti per quanto riguarda il pan fluidissimo su entrambi mentre lo scrolling diciamo che vedremo anche dopo sul browser è più veloce su Samsung e su Android in generale io lo preferisco perché su iPhone per esempio se io sono in alto una foto e voglio andare completamente in basso vedete che non riesco con un solo scrolling invece qua anche lanciando piano riesco a fare tutta la pagina io devo dire che preferisco uno scrolling simile anche su Windows Phone che è più simile a quello del iPhone non è che mi trovi benissimo questa è una foto diciamo fatta fuori è più panoramica anche qua proprio vediamo il cartello è quasi bene che rimane molto più definito sul Samsung anche vedete qua proprio il colore i neri fra il bianco e il rosso sono belli definiti e devo dire che qua sono veramente bene entrambe come qualità però mettendoli sul computer si vede comunque che sono migliori quelle del Samsung che tra l'altro pesano anche parecchio perché pesano 6 MB contro 1,8 MB dell'iPhone forse un po' troppo pesanti effettivamente quelle del Samsung queste sono fuori vedete qua i colori nettamente più accesi sul Samsung accattivanti sicuramente ma non proprio realistici al 100% ci sarebbe un compromesso diciamo che sicuramente a colpo d'occhio rispetto al Samsung il fracca è molto grande il fracca ha questi colori accesi e colpisce di più vedete anche qua stesso discorso della definizione insomma con il fotocamera direi che decisamente la spunta la vince le macro invece vengono bene paragonabili su entrambi vedete come lo da dire sulle macro vengono benissimo anche su iPhone come su tutti i telefoni diciamo moderni usciamo andiamo sulla parte video quindi galleria scusate se cade un po' di volume però ho cambiato microfono questo è il primo video che faccio con microfono nuovo e quindi non so io mi sto muovendo parecchio quindi non so come il microfono prende la mia voce in ogni caso ditemi i commenti sul microfono anche volendo video in full hd uso quello vecchio perché quello nuovo non l'ho messo su iPhone allora ricominciamo scusate vabbè sono negato io ok più o meno ci siamo dai allora video in full hd come vedete viene riprodotto benissimo su su entrambi non ci sono non ci sono problemi l'angolo di visione è assolutamente paragonabile vedete colori come vi dicevo indubbiamente più più sparati sul Samsung però devo dire che comunque i bianchi sono migliorati rispetto al vecchio S4 sono molto buoni sono paragonabili e in generale insomma la risoluzione è più alta sul Samsung però non si vede perché anche l'iPhone è più che sufficiente come definizione insomma due ottimi ottima fluidità ottimi display nulla da dire indubbiamente guardare un film viene meglio su un display da 5 pollici quindi da questo punto di vista secondo me è obiettivo che vinca il Samsung andiamo un attimo sulla galleria che vi faccio vedere anche le foto la videoprova i bianchi i neri eccetera eccetera allora questi sono i bianchi e come vedete sono molto molto simili in questo caso la luminosità massima è anche più alta sul Samsung diciamo che dal sole si vedono entrambi bene perché sapete che l'AMOLED al sole non si vede benissimo ma al buio la luminosità è più alta sul Samsung i bianchi in questo caso sembrano più bianchi sul Samsung almeno dal vivo non so dalla videocamera cosa voi percepiate andiamo sui neri neri decisamente meglio sul Samsung sapete che il Super AMOLED ha dei neri assoluti con l'IPS invece non sono nerissime non è da dire che però l'iPhone è comunque la dei neri notevoli per avere un display IPS andiamo avanti vedete ancora il neo delle gatte più nero sul Samsung come risoluzione vabbè qua si vede benissimo entrambi perché è una foto super definita però coloro vedete che sono decisamente diversi va bene dai usciamo parliamo di musica di audio insomma musica album sentiamoci questo musica ok sentiamo prima sul Samsung ve l'ho messo davanti al microfono che non è sotto la videocamera adesso vi faccio sentire anche con me l'iPhone ok ok allora il volume è più alto sull'iPhone e la qualità siamo lì però diciamo che sembra più corposo il suono sull'iPhone quindi da questo punto di vista direi che vince iPhone anche perché comunque la posizione delle casse è decisamente più intelligente cosa che non posso dire invece per la posizione del jack per le cuffie che messo in basso secondo me è veramente scomodo lo preferisco mettere e lo preferisco messo qua in alto mi sembra una scelta più intelligente più logica perfetto la facilità rimane ottima su entrambi andiamo sul sul browser andiamo su google andiamo sulla repubblica per cambiare un po' perché c'è la possibilità di mettere in versione desktop sapete che su iPhone non c'è l'opzione quindi bisogna trovare dei siti che diano la possibilità di appunto mettere in versione desktop invece su Android tutti i siti si possono mettere in versione desktop versione classica anche qua diciamo subito che sicuramente la navigazione risulterà più piacevole su un display più grande questo anche qua mi sembra abbastanza palese vediamo un po' invece come si comportano i browser allora come pinch to zoom direi pari vediamo iPhone io qua mi sono entrato in una notizia usciamo quindi pinch to zoom pari assolutamente vediamo il pan anche qua se la cavano direi alla pari doppio tap vediamo lo scrolling invece eccoci qua non ci sono problemi su questo sito almeno su qualche sito diciamo che il Samsung ha qualche mini ritardo nel rendering delle immagini su siti molto pesanti ecco vedete qua stesso discorso di prima delle foto indubbiamente molto molto fluido però se io volessi andare all'inizio pagina devo fare più scroll invece qua posso fare direttamente uno e mi fa quasi tutta la pagina quindi preferisco in generale navigazione sul browser qua sono gusti indubbiamente farà display più grande comunque un'ottima fluidità diciamo paragonabile diciamo che su siti pesanti l'iPhone riesce a renderizzare prima le immagini ma è anche dovuto al fatto che la risoluzione oltre ad essere più bassa anche lo scrolling è più lento quindi ha più tempo di appunto caricare le immagini e le scritte invece su Samsung scorrendo molto velocemente avendo una risoluzione più alta magari ci mette quel decimo di secondo in più ma nell'uso quotidiano assolutamente direi che se la cavano va pari usciamo conclusioni allora cosa dire parliamo delle batterie 2800 mAh contro 1570 vince sicuramente il Samsung quando l'iPhone si fa fatica ad arrivare a tardo pomeriggio invece con il Samsung anche con l'uso intenso si arriva dalle 7 di mattina alle 11 di sera senza grossi problemi quindi sicuramente vince il Samsung tra l'altro abbiamo un sacco di opzioni per risparmio energetico diciamo che blocca dei core si può anche mettere display in bianco e nero addirittura per risparmiare batteria quindi insomma tante funzioni carine anche su Samsung per risparmiare batteria cosa che comunque non serve nell'arco della giornata e per di più batterie removibili e non removibili insomma sappiamo già i pregi difetti in ogni caso anche sulla batteria vince il Samsung per quanto riguarda il prezzo Samsung è appena uscito costa 699 contro i 729 diciamo di stile dell'iPhone 5S 16GB che è quello più piccolo tra virgolette e contro gli 800 e passa a 32GB adesso il Samsung si trova già a 599 online anche l'iPhone si trova a 549 quindi diciamo che i prezzi sono lì siamo lì allora sapete già il solito discorso che qua non lo riesco a bilanciare più di tanto due sistemi operativi molto diversi Android più aperto iOS più chiuso molto molto fluido ben ottimizzato i giochi girano benissimo su entrambi tutti i tipi di giochi i vantaggi possiamo fare un repilogo secondo me i vantaggi del Samsung sono fotocamera migliore display più grande anche se effettivamente le dimensioni sono aumentate parecchio rispetto ad S4 sono aumentate rispetto ad S4 che secondo me ha un po' il limite di dimensioni l'iPhone invece è molto più compatto ha dei materiali molto più nobili se così si può dire più bello da tenere in mano però il display così piccolo sinceramente oggi giorno non secondo me non attiva più di tanto poi batteria indubbiamente migliore a favore del Samsung e insomma queste sono le principali differenze poi insomma i gusti sono gusti se vi piace iOS sapete già cosa scegliere diciamo che generalmente a chi chi ama iOS non vi piace l'interfaccia del Samsung anche se è migliorata quindi che comunque rimane un po' giocatolosa di solito chi fa il passaggio all'Android prende un HTC o comunque non un Samsung in ogni caso avete visto come funziona fate voi le vostre scelte la mia personale opinione è che conviene cioè io preferisco un po' Android in generale questo lo dico spesso perché mi trovo meglio con un sistema più aperto è un po' più da smanettoni per interni poi mi trovo bene con display grandi magari con codici un po' ridotte però la dimensione che per me è d'obbligo oggi a giorno è almeno 4.7 pollici secondo me per un top di gamma poi ovviamente ognuno ripete i suoi gusti quindi per questo video è tutto se avete domande particolari fatemene pure ci vediamo nei prossimi video un saluto da Lorenzo per esperienza mobile ciao